Dramma della solitudine a Galliera Veneta. In questo appartamento del Residence Bella Vista in Viale Venezia sono stati rinvenuti i corpi senza vita di Giustino Testa, 69 anni, e Luisa Ciaburri, 64 anni. I due coniugi erano distesi sul loro letto, morti da almeno una decina di giorni. Non si conoscono ancora le cause dei decessi, che saranno definiti solo dall'esame autoptico sulle salme, che chiarirà tempi e modalità. L'allarme è stato dato da una vicina preoccupata per la puzza terribile che si sentiva uscire dalla porta accanto alla sua. Giovedì scorso, un forte odore, ma tanto, tanto forte, proprio una puzza che pensavamo che fosse magari qualche bestia, morta a sé. E invece dopo mia figlia ha chiamato i vigili e tutti sono venuti qua stamattina. E li hanno trovati morti tutti e due. Non si vanno mai perché lei era inferma. Scosso il sindaco di Galliera Veneta, Italo Perfetti, che ci racconta come il comune si fosse mosso per aiutare i due coniugi che vivevano da un anno nell'appartamento di Viale Venezia con una pensione minima. È stata una richiesta di un aiuto, prima economico e dopo anche un aiuto di avere un appartamento a disposizione. Le abbiamo dato a questa famiglia, che ora anche era molto ridotto il canone del mensile per loro. Lei dice che è un periodo difficilissimo, difficilissimo soprattutto per persone come questi due anziani coniugi. Sì, è un periodo molto difficile per tutti. Avevano figli? Si sa se avevano qualche familiare? No, noi sappiamo che non ha nessun figlio e anche nessun parente. Loro sono di provenienza a Milano e sono circa 20 anni che abitano qui a Galliera. Lui lavorava su una ditta qui di Galliera. Ci saranno da riflettere molte cose su questo anche disgrazia che è successo qui in comune di Galliera.